I nostri diritti ormai sono perduti, in questi giorni li abbiamo perduti. Molti alunni delle prime che stavano nella succursale del geometri li hanno, tra virgolette, sfrattati, messi nel banzi, nell'aula dei professori, nei laboratori e nella palestra. Il terreno della palestra ti sa che è tossico perché è pieno di amianto e fare lezione là non penso che sia una cosa normale. Oltretutto i pullman, le corriere per i ragazzi di paese non arrivano in tempo perché sono tutti da 60 minuti. I ragazzi devono aspettare le 6 di pomeriggio, le tardo pomeriggio per tornare a casa e talvolta non possono neanche studiare. Quindi questo non pensiamo che sia una cosa ammissibile e quindi spero che stiamo per questo motivo. Non è inutile che mi stare là, dobbiamo essere compatti, qua dietro, forza! Tutti qua dietro, compatti ragazzi! Forza Andrea! Antonio Cabelloni è lì dentro con due compagni nostri che stanno risolvendo la questione e noi aspettiamo qua fino a che una situazione non esce.